C'è chi sbuffa e chi si intrattiene con il computer, chi messaggia su WhatsApp e chi fa due passi per sgranchirsi le gambe. Del resto la proposta non sembra entusiasmante, società partecipate, variazioni di bilancio e modifiche al regolamento dell'Atari. Argomenti noiosi, verrebbe forse da dire a chiunque, eppure si tratta di punti importanti nella vita amministrativa di palazzo mercanti. Succede dunque che nel lungo consiglio comunale di ieri l'altro, una seduta a fiume iniziata alle 15 è conclusa a mezzanotte. Alcuni eletti piacentini si lasciano andare a parentesi di stanchezza e leggerezza. Balza all'occhio, ad esempio, Filiberto Puzzu dei Liberali, subentrato dopo la morte di Corrado Sforza Fogliani. A un certo punto, per qualche minuto, il consigliere di minoranza afferra il tablet, naviga su internet, trova finalmente il sito desiderato, ruota lo schermo in orizzontale per una migliore visualizzazione e guarda le azioni calcistiche della giornata di Serie B, con una particolare attenzione alle sorti di Spal Pisa. È lui stesso a raccontarlo sui social network. La seduta è stata complessivamente noiosa, si legge in un post Facebook di Puzzu, medico di famiglia, con molti interventi che replicavano cose già dette. Ho smorzato la noia, sempre con un orecchio a quanto accadeva, grazie al mio tablet personale, navigando qua e là. Una questione di forma, al di là della discussione politica, è anche quella sollevata da Sara Soresi di Fratelli d'Italia nel corso del Consiglio Comunale di ieri l'altro. Io vorrei richiamare un attimo anche, insomma, far luce un attimo anche sull'atteggiamento del sindaco. Francamente mi sembra sempre un po' poco istituzionale. L'alzata degli occhi del cielo, le parolacce, le abbiamo sentite tutti prima. Pronta la replica di Tarasconi, interpellata all'indomani del Consiglio, dalla nostra redazione. Non è vero, ascolto tutti per ore, dice il sindaco. Durante le sedute la giunta è sempre al completo. Lunedì l'opposizione ha fatto tutto da sola, dando un brutto esempio di politica, sostiene Tarasconi, per poi concludere che dopo un lungo dibattito sul nulla è inevitabile lasciarsi andare. Siamo tutti esseri umani, rimarca Tarasconi, ma il mio rispetto è indiscutibile.